Sono in compagnia con Gian Piero Cieriaco, vice lanatore del Gabice Gredara. Mister, un pareggio che la contenta? Per come è arrivato alla fine? L'abbiamo riacciuffata alla fine, sicuramente era peggio la sconfitta. L'obiettivo iniziale era diverso, era quello di cercare la vittoria, però chiaramente il campo purtroppo ha dato questo risultato qua. Lo accettiamo anche perché è venuto sul finale, per cui alla fine è un punto guadagnato. Diciamolo onestamente, cosa è mancato oggi a questo Gabice Gredara per portare via l'intera posta? È mancato un po' di lucidità, abbiamo giocato non la palla come di solito sappiamo fare, abbiamo cercato palle lunghe. Quando loro erano schierati, difesa 4, non li abbiamo messi mai in difficoltà, dovevamo essere un attimino più mobili nello smarcarci, nella proposizione del gioco, cosa che non è avvenuta, un po' per merito dell'avversario, un po' per demerito nostro. Chiaramente è stata una partita che si è messa in salita perché poi loro sono andati in vantaggio a un certo punto, per cui è diventata ancora più difficile di quello che poteva essere all'inizio. Però l'importante è aver dato continuità ai risultati, averla ripresa, è già questo un buon sintomo. È chiaro che dobbiamo migliorare ancora tanto sotto il profilo fisico perché molti giocatori sono indietro, perché ci sono allenati poco per il Covid, anche oggi a centrocampo avevamo dei giocatori che si erano allenati non perfettamente, infatti il mister come avete visto ha ruotato soprattutto a metà campo gli uomini, però chiaramente ancora la condizione non è ottimale. L'importante però è aver dato continuità ai risultati. Sono con il mister Mirko Papini, mister, come ha detto il suo collega Cerico, anche lei è un punto che l'ha contento oppure no? Allora guarda, sicuramente siamo in un momento dove dobbiamo trovare un pochettino fluidità nel gioco, meno frenesia e giocare più a tempo. Qualche errore sicuramente è stato fatto, nel primo tempo siamo sesi con dei ragazzini che secondo me sono stati anche bravi, però siamo venuti a meno lì in personalità, però nonostante tutto sono giocatori che noi ci contiamo tanto. Se però andiamo a vedere, a parte che non hai fatto un buon primo tempo, loro hanno avuto un'azione sull'angolo e poi nient'altro. Nel secondo tempo c'è stata una reazione importante, non in modo ordinato, anche un po' disordinato perché si voleva comunque far gol, quindi va bene. Non mi piace avere delle reazioni perché vuol dire che te devi sempre prendere uno schiaffone e puoi reagire, quindi dobbiamo essere più bravi a farlo prima noi, quindi spero che le reazioni vengano da parte degli avversari. Ma a parte questo non posso dire nulla alla mia squadra, perché se c'era una squadra che oggi poteva portare a casa il risultato pieno eravamo noi, perché abbiamo avuto non so quante palle, batti, ribatti dentro l'area nel secondo tempo, abbiamo sbagliato parecchie situazioni dove si poteva chiudere, pareggiare prima e poterla portare a casa. È chiaro che queste partite, nove volte su dieci, si perdono. Sono stati bravi comunque a portare a casa un pareggio, che non era sicuramente facile, c'è da lavorare, lo sappiamo, dobbiamo recuperare dei giocatori che secondo me sono anche importanti, quindi dai diamo continuità a dei risultati positivi, speriamo di cercare di far meglio nelle prossime gare anche a livello di gioco, quindi il camino è lungo, però dai l'importante era comunque non perdere oggi in casa, non era sicuramente semplice, perché quando vanno in vantaggio gli avversari poi magari si chiudono, palla lunga, lanci, ti allungano e ben venga questo pareggio alla fine. Questo gol, mister, la sua grande esperienza, si poteva evitare? Certo che si poteva evitare, perché l'angolo è venuto da un errore nostro d'attacco, perché se noi in attacco magari riuscivamo a chiudere meglio una situazione dove c'era un 4 contro 3 sicuramente per la fase difensiva, che era in superiorità numerica, però noi avevamo un palla al piede, potevamo fare altre cose, abbiamo perso il palla, abbiamo perso una ripartenza, eravamo lunghi, è venuto fuori il calcio d'angolo e sicuramente lì c'è stata una disattenzione, è chiaro che si poteva evitare, ma si poteva evitare già molto prima se facciamo bene qua davanti, è chiaro, i gol si fanno se gli avversari fanno degli errori, noi l'errore l'abbiamo fatto, quindi ha colpito da solo e quindi ok, staremo più attenti la prossima volta. La mia domanda, Fabri al posto di Buzanetti, che scelta è stata? È stata una scelta tecnica? Fabri al posto di Buzanetti, ok, no, sono due portieri molto bravi, ok, Buzanetti ha fatto molto bene le prime due partite, so il valore che ha, Fabri è un giocatore anche lui di prospettiva, che viene da un settore giovanile e ha prospettive ed è giusto comunque vedere anche Fabri il valore e le qualità che ha, che comunque sta dimostrando, sì in allenamento oggi è la prima partita che faceva, sicuramente anche per lui non era facile e quindi diamo spazio un po' a tutti e due e poi dopo se lo andranno a giocare più avanti con la competizione che ci deve essere insomma tra due portieri dove comunque sia un ruolo abbastanza delicato.